mister da oggi si inizia a fare sul serio si da un po che aspettiamo questo momento dopo tante chiacchiere che si sono fatte alla fine noi dobbiamo rimanere concentrati sull'aspetto tecnico sull'aspetto fisico e da oggi si va in ritiro ieri abbiamo fatto i test sono andati molto bene i ragazzi si sono presentati molto bene quindi è stato bello vedere lavorare in questo modo e mi aspetto che anche nei prossimi giorni sui ritiro si possa fare un buon lavoro per prepararsi per la stagione i sedili con i ragazzi come diceva prima sono iniziati test a livello statico stanno molto bene e a livello mentale ma la presenza del presidente è stata molto importante perché ci ha confermato quello che già si leggeva che che sono molto fiduciosi ottimisti su quello che sarà il prossimo grado di giudizio quindi come ho già detto alla fine i ragazzi hanno già messo da parte la cosa e pensano solo ad allenarsi al massimo siamo uno staff un gruppo tutti quanti nella società che andranno in ritiro che andranno dritti per dritti pensando all'obiettivo del campo quello di preparare bene la stagione poi tutto il resto noi lo lasciamo da parte uno perché non possiamo fare niente e due perché alla fine quando lavori lavori bene poi si crea un gruppo si crea un entusiasmo ed è quello che vogliamo fare coinvolgendo tutti da chi lavora dietro le quinte da chi è a casa che in questo momento magari sto soffrendo ma il nostro obiettivo è questo quello di di andare dritti per dritti sulla nostra strada cercando di portare tutti dentro con con la massima serenità perché alla fine tutto il resto poi non serve niente